Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non abbiamo più finanziamenti statali per la scuola che stanno chiudendo e così anche per gli ospedali, per la sanità, per tutti i servizi che ci mancano e sappiamo che questo è un sistema che fa proprio parte di un'intera volontà di austerity, di una politica per risolvere la crisi che pesa sulle spalle di noi cittadini e di noi studenti. Quindi siamo scelti in piazza per ribadirlo ancora una volta oggi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.